Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori tre chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra segna in direzione Firenze, un chilometro di coda sulla carreggiata opposta in direzione Mare, in A1 in direzione Roma per un veicolo in avaria rallentamenti tra Incisa Reggello e Valdarno e per lavori tra Valdichiana e Chiusi. Sulla Statale 1 Aurelia per lavori tra Follonica Nord e Follonica Est, scambio di carreggiata, chiusura dello svincolo di Follonica Nord in direzione Livorno. Su raccordo Siana-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta. A Firenze per lavori alla rete idrica, in via Baccio da Montelupo, restringimenti di carreggiata e di vieti di transito. Puoversi Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!